Finisce 95 a 89, dopo un tempo supplementare torna il successo Pescara, superata Corato con un pizzico di apprezzione. Partiamo dal quarto finale quando a 4 minuti e 50 secondi dalla sirena Corato era avanti di 12. Ti chiedo, cosa non aveva funzionato fino a quel momento e come hai cambiato la partita? Non ha funzionato, terzo quarto non siamo partiti bene. Purtroppo è un momento che non ci gira bene e i ragazzi secondo me inconsciamente o consciamente stavano sentendo troppo la pressione, la voglia perché loro hanno tanta voglia di fare bene e purtroppo oggi giravamo contro una squadra molto forte, una delle più forti di questo campionato con un pacchetto lungo importante, esterni forti, abbiamo visto il premio a Cristella. Quindi era una partita molto difficile, noi stavamo affrontando abbastanza bene al primo tempo e purtroppo poi al secondo tempo abbiamo sentito la pressione di vincere e purtroppo siamo andati 12 punti sotto. Voi dove siete stati bravi? Sono stati bravi i ragazzi che hanno messo davvero grandissimo cuore in campo. Al termine ho detto ragazzi se perdiamo non ci spara nessuno, però caspita proviamo a fare di tutto per vincere perché se giochiamo con la paura addosso non otteniamo niente. Devo dire che forse mi hanno ascoltato ma soprattutto sono stati bravi loro a metterci tantissimo cuore, a non mollare mai, neanche quando ci ha fatto falle e canesto stella siamo tornati mi sembra a meno 5 a un minuto dalla fine. Bravi chi ha fatto i canesti, bravi chi ha recuperato i palloni, bravi tutti quelli che sono stati in campo, quelli che hanno giocato oggi perché è una partita importantissima da vincere per noi. Sono contento anche se è venuto in questa maniera, spero che da oggi in poi i ragazzi ritorneranno a giocare con più tranquillità perché in questo momento secondo me ci mancava un po' di tranquillità. Per chiudere Stefano possiamo dire che questa vittoria oltre due punti in classifica è importante per il modo con cui è arrivata nel senso che potrebbe essere quella cosa che serviva per risbloccare mentalmente la squadra? Sì sicuramente sì perché al di là di come è venuta mi sarebbe anche piaciuto vincere con un po' più di tranquillità però vincerla così fa capire ancora di più che siamo un gruppo forte nonostante l'assenza di Alessandro dopo di oggi però abbiamo inserito Flavio che ha subito fatto vedere il suo valore quindi sì sicuramente può essere una partita importante che sono sicuro che ci sbloccherà mentalmente poi noi da qui a fine campionato avremo tante altre partite difficili però dobbiamo giocarle con maggiore tranquillità rispetto a quelle che abbiamo giocato le ultime due partite.